Ciao amici di D-Day, siamo a Milano e stiamo cercando di capire quanto ne sanno le persone di DVB-T2-HEVC e passaggio al nuovo standard digitale terrestre. Seguiteci, ne scoprirete delle belle. Parliamo di televisori, se io le dico DVB-T2-HEVC, lei sa di che cosa stiamo parlando? Assolutamente no. 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 Assolutamente no. 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 Credo di averla sentita, mi immagino sia un canale digitale terrestre o comunque digitale streaming, qualcosa del genere, però non l'ho mai sentita, non l'ho mai vista, mai guardata. Ti dico DVB-T2-HEVC, sai di cosa sto parlando? Nine, no, niente, assolutamente, mi spiace. Assolutamente no, turco probabilmente. No. Non ho mai sentito parlare. Aiuto. Beh, cioè non vorrei passare per la persona che è inconsapevole, però mi viene in mente un qualcosa che ha a fare con un virus. Assolutamente no. Se io le dico DVB-T2-HEVC, lei sa di cosa sto parlando? No. 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 Assolutamente no. No. È proprio di no. No. Assolutamente no. No, non so di cosa state parlando. Allora ti spiace? No. Allora le dico una cosa. Perché su questo campo sono letteralmente ignorante. Allora? No. Onestamente no. Allora? No. No. Di una malattia? Non. Allora. Grazie a tutti